Bella a tutti ragazzi, vedo in questo nuovo video delle sfide leggendarie ragazzi Ora andiamo a completare la sfida che ci dice di visitare i luoghi preferiti del fattore still Quindi ragazzi, faccio la battaglia visto che sto registrando l'anteprima, le sfide E tra poco ci vediamo in mappa con tutte e tre le location Perché se non erro ne sono tre o due, no Ah, sono... Sì, sono tre ragazzi, ok, ok Andiamo subito in mappa, ma tra poco Ok ragazzi, ecco qua la prima location preferita dal fattore qua Come cavolo si chiama il tizio? GG Queste sono le sfide leggendarie, vi ricordo Dobbiamo andare esattamente qui ragazzi Basta entrare qui nel tomato Per me ormai che sono un OG del gioco, ma sono sempre scarso Resterà comunque tomato town Per me, oddio, un piccolo pezzo di tomato town Entrate qua dentro quando vi apparire la sfida E sarà completata ragazzi Ora andiamo alla seconda location Andiamo Ed eccoci qua, quasi arrivati alla seconda location ragazzi La seconda location preferita del tizio, di still E allora, dobbiamo andare esattamente qui ragazzi Che non mi ricordo come si chiama questo laghetto Mi sembra lago delle canoie, no? Lago delle canoie è quello di corso commercio Come si chiama questo laghetto? Vabbè comunque ragazzi, non ci interessa così tanto Ed eccoci qua, ci siamo spostati da qui Ah, esattamente qui Ora dobbiamo andare nell'ultima location Che dovrebbe essere questa Andiamo ragazzi Ok ragazzi, come vi avevo già anticipato Ecco l'ultima location Io la chiamo location tricolore Oppure arcobaleno Perché ci sono tutte queste casette Come vedete ragazzi Una è giada, una azzurra, una è verde, un'altra è rossa Arancione, boh Comunque Viva il daltonismo E questa è l'ultima location da visitare ragazzi La zona esatta è direttamente questa qui Basterà che venite qui ragazzi Vi mettete qua, dove vi pare Io ci faccio pure un piccolo screen per la copertina E il gioco è fatto ragazzi Ecco qua Quello che dovete fare In questa ultima location Semplicemente dovete venire a visitarla appunto Ok? Quindi mi raccomando ragazzi Condividete il video con i nostri amici Per aiutarli a fare le sfide Lasciate un mega like se vi sono stato d'aiuto Commentate, iscrivetevi E ci vediamo in un prossimo video in live Ciao belli